Ciao a tutti ragazzi, qui è AlexisMade e siamo qui sul nuovo episodio di Impariamo a giocare a code ancora una volta Deathmatch a squadre su Dome, che a quanto pare credo sia l'abolamento a questa mappa strafica ok, allora, quindi ci divertiamo un po' col bellissimo P90 e devo mutarne uno, che adesso sono tutti mutati non posso mutarmi, no ah già, qui c'è il trucchetto della Spawn Trap no Hitmarker HATSHOT BITCH RECARCA RECARCA nooo, ma dov'era? ho capito non capite quanto bordello si fanno, si fanno i puntoni qua no ma è morto, scusa nooo, ho sparato quello morto che è fail non devo usare Sentex no, 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 no raga, 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 non va bene, sono 3-3 che proviamo un passaggio di nuovo di qua no, ma sono 2, cazzo ne ho ucciso 1 no, dietro no, ma c'ho colpito no, ma c'è la propria manetta no, ma c'è la propria manetta no, 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 no ne avevo due davanti, ho fatto un fail epico no, cazzo, l'ho pure visto no, scusate raga, però c'è, a volte capita no, 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 no no me l'ho lanciato la Semtex no ma dove era cazzo l'ho pure visto abbiamo vinto ho fatto un 9-3-10 quasi quasi facevo un positivo quasi quasi e dai 960 punti eh su dom adesso sto migliorando a parte qualche pico però avete visto qualche drop shot e sto facendo miglioramenti non proprio notevoli ma almeno riesco a fare un po' qualcosa vi ricordate lo scorso avevo fatto 14 in questo ho fatto 10 e molto buono vabbè vedete è finito questa partita il video finisce qui spero vi sia piaciuto ci vediamo nel prossimo video ciao ciao